Musica Buonasera gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo oggi con la pagina della cronaca. Il cadavere di un uomo di poco più di 70 anni, residente nel Fermano, è stato trovato la scorsa notte a ridosso della bonifica del Tronto. A cavallo tra Marche e D'Abruzzo, nei pressi di Porto d'Ascoli, strada nota per la presenza di prostitute. Era parzialmente svestito e presentava ferita la testa, l'apparenza non gravi. A notarlo, in una piazzola è stata una persona che ha dato l'allarme. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto il procuratore di Ascoli, Umberto Monti, che coordina le indagini della squadra mobile del locale commissariato. Sulle cause del decesso sarà determinante l'autopsia, ma al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dell'omicidio. 800 metri cubi di rifiuti terrosi frammisti ad inerti di demolizione e scarti di lavorazione di materiale plastico sono stati scoperti a Numana dai carabinieri forestali, reparto a cavallo del Conero, provenienti da un lotto industriale adiacente attivo sino a 15 anni fa. Il materiale, potenzialmente nocivo per l'ambiente, era sotterrato a circa 2 metri di profondità. La nuova azienda, che è subentrata recentemente nell'uso del capannone anziché seguire le procedure previste dalla normativa vigente, ha iniziato ad estrarre i rifiuti e ad accantonarli in un'altra area senza autorizzazione, pertanto in maniera illecita. Area sequestrata a due denunce e l'Arpam, che ha emanato prescrizioni per la rimozione dei rifiuti. Ed oggi è stata l'attesa giornata dell'obbligo dell'introduzione del Green Pass nei luoghi di lavoro. Manifestazione ad Ancona, dove una cinquantina di persone hanno bloccato via Marconi, la strada che conduce dalla stazione ferroviaria al centro della città. Dal gruppo sono fuoriusciti i lavoratori del porto, che è comunque rimasto sempre attivo. Altro presidio in Piazza del Papa, davanti alla Prefettura. Vediamo comunque come è andato questo primo giorno in particolare nel trasporto pubblico a Fano. Sentiamo Lino Balestra. Dottor Benedetti, oggi era una giornata un po' di prova. Tanto era da vedere come andava il trasporto pubblico, soprattutto orientato verso gli studenti. Come è andata? Abbiamo dovuto ridurre alcuni servizi in alcune fasce orarie poco utilizzate o in alcune zone, anche se poco utilizzate, ma servite da altri collegamenti. L'abbiamo dovuto, come dicevo, ricalibrare proprio per garantire, per concentrare le unità operative rimaste proprio negli orari di punta. Orari di ingresso per i ragazzi, che frequentano le scuole superiori, orari di ingresso negli uffici e così la stessa cosa all'uscita. La programmazione è così come è stata fatta a Retto. Tutti i ragazzi e tutti i pendolari sono stati regolarmente serviti come in qualsiasi altra giornata. Qualche servizio naturalmente all'interno della provincia è stato ridotto. Anche il personale stesso, magari anche con i turni, si è dovuto rimodulare, però un sacrificio, diciamo, tra virgolette, che ha consentito al sistema di reggere fondamentalmente. Assolutamente sì. L'atteggiamento responsabile è di tutti. Perché poi il fatto del Green Pass sono scelte personali, ma che ognuno di noi rispetta. Quelli che invece in realtà erano in servizio hanno capito il problema, la situazione. Ma questo fa parte delle caratteristiche del nostro personale, di cui siamo anche molto orgogliosi. Si mette il cuore al di là dell'ostacolo, spesso, pur di fare un servizio che comunque sia utile ai cittadini. Ecco, avete di fronte settimane impegnative da qui alla fine dell'anno. Come vivete questo momento? Cioè è un vivere giorno per giorno, settimana per settimana, in base a quello che è l'andamento? Sì, noi, diciamo così, avendo l'esigenza di dover programmare i servizi, almeno settimanali, noi abbiamo un quadro completo già nel fine settimana precedente alla settimana da programmare i turni, quindi abbiamo la piena contezza delle risorse disponibili e ricalibriamo il servizio sulla base delle risorse disponibili. Nel frattempo stiamo cercando anche di, diciamo, ulteriori operatori di esercizio da mettere in servizio, cosa complicatissima per tanti motivi, tra cui la mancanza proprio degli operatori. Diamo un consiglio anche all'utenza che magari voglia sapere se la sua corsa ha subito mutamenti di orario, di fasce, come può fare l'utente per essere aggiornato? Devono collegarsi al sito www.adriabus.eu, lì ci sono quattro sezioni, trasporto esturbano, urbano-fano, urbano-pesor, urbano-urbino, cliccando sulle varie sezioni troveranno le linee su cui sono intervenute le modifiche dei servizi e la riduzione. Ancora cronaca, operazione dei finanzieri della compagnia di Civita Nova Marche, è stata individuata un'attività di ristorazione che senza utenze elettriche, idriche e gas intestate da oltre un anno e mezzo e senza lavoratori dipendenti a carico, aveva richiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate l'erogazione di un contributo a fondo perduto per oltre 10.000 euro previsto dal decreto rilancio. La scoperta è avvenuta nell'ambito dei controlli sulla platea dei contribuenti percettori delle misure nazionali di ristoro e sostegno connessa all'emergenza Covid per i titolari di partita IVA. Il titolare è stato denunciato. Ha patteggiato un anno con sospensione condizionale della pena il 28enne Civita Novaese Luca Malavasi, arrestato dai carabinieri a seguito di una perquisizione nella sua abitazione che ha portato al rinvenimento di un etto di hashish, 34 grammi di marijuana ed una dose di cocaina. Oltre a 730 euro in contanti. L'operazione è scaturita dopo alcune segnalazioni giunti dai residenti di Porto Potenza Picena che avevano notato strani movimenti legati al traffico di stupefacenti. Cambiamo argomento. Primo impegno a Bruxelles per l'assessore Guido Castelli, recentemente nominato componente del Comitato Europeo delle Regioni come membro permanente della delegazione italiana. L'evento annuale a Bruxelles è stato un'occasione per riunire politici, funzionari, esperti ed accademici provenienti da tutto il continente. Nel suo intervento Castelli ha parlato soprattutto di ricostruzione post-sisma e dei problemi di bilancio dopo la pandemia. Sentiamo l'intervista. Sul piano territoriale, lo dice il barometro che per l'appunto sarà presentato, ci sono circa 180 miliardi che mancano all'appello nelle regioni e nei comuni europei. Per quanto riguarda l'Italia sono 27 miliardi. Veramente una manovra di questo parleremo per fare in modo che ci siano correzioni rispetto a quello che è un dato propriamente territoriale. il fatto che quando fermi le città, fermi anche le entrate che spesso si collegano all'utilizzo della città. Da questo punto di vista sono anche altre le ragioni che ci portano qui a considerare particolarmente rilevante questa sessione che ricade nell'ambito della settimana delle regioni anche perché non possiamo dimenticare che nelle Marche in particolare stiamo affrontando una transizione della transizione, mi riferisco alla ricostruzione, al terremoto che dovrà essere concepita anche cercando di riportare tutto il quadrante della ricostruzione entro i crispi e gli schemi della transizione ecologica. Ricostruire bene, presto, ma anche in maniera aderente a quelli che sono i dettami di questa Green New Deal su cui nelle Marche ci giochiamo una fetta importante di credibilità. L'Europa c'è e funziona nella misura in cui rifletta quell'impostazione multivevello che ne rappresenta il tratto distintivo. Da questo punto di vista quindi più attenzione alle città, alla misura 5. Ma la regione Marche purtroppo dalla prossima programmazione europea entrerà in transizione. Da questo punto di vista le sofferenze sono quelle che risalgono agli ultimi dieci anni che sono stati davvero molto impegnativi per una regione che fino a 15 anni fa era la settima regione più manifatturiera d'Europa. Ora ci ritroviamo in un range invece di indicatori macroeconomici che ci fanno scivolare verso il sud. Da questo punto di vista una delle richieste che in maniera più impegnata il Presidente Acquaroli ha fatto è che anche le regioni che entreranno in transizione ma che ancora non lo sono perché l'accordo di partenariato non è stato siglato possano nel PNRR avere gli stessi benefici delle regioni del sud. Da questo punto di vista infatti sia Umbria che Marche saranno sud ma non lo sono ancora. Però nel frattempo molti degli stanziamenti vengono effettuati penalizzando quelle regioni in difficoltà ma che non sono ancora ufficialmente in difficoltà. Il tasto dolente del terremoto più specificatamente riguarda la transizione verde e digitale. Sì, il 62% dei danni sono stati tutti sofferti dalla popolazione marchigiana lo dico purtroppo con estremo dolore e sofferenza. Da questo punto di vista il punto è che non dobbiamo accontertarci del com'era, dov'era perché non si tratta di riportare le lancette dell'orologio marchigiano al 23 agosto del 2016. Si tratta di indicare come elemento costitutivo della ricostruzione anche l'elemento innovativo della transizione digitale ed ecologica. Da questo punto di vista il PNRR che citavo prima per la parte del fondo complementare prevede degli stanziamenti dedicati che sono stati concepiti proprio per far sì che la ricostruzione non sia solo tempestiva e sicura ma anche aderente a quelli che sono gli standard di una costruzione pienamente rispondente a quelli che sono i criteri del Green New Deal. È più costosa però una ricostruzione che sia meno energivora, una ricostruzione più rispettosa delle questioni e della sensibilità. Ci stiamo impegnando su questo, con la struttura commissariale, con il commissario Legnini c'è una piena intesa da questo punto di vista, ora nel breve stiamo affrontando un problema importante che c'entra molto con l'economia circolare, il problema delle macerie. Le macerie pubbliche sono state quasi tutte rimosse, sono ancora a terra 4 milioni e 200 mila tonnellate di rifiuti di macerie private. E parlando proprio di macerie prende finalmente il via la fase operativa per il trattamento delle macerie del cimitero monumentale di Castel Murato di Ussita, uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini, letteralmente raso al suolo dal terremoto. Redatte le schede in cui sono indicate le modalità concrete di smontaggio, recupero, trasporto e stoccaggio di quel che resta, in attesa della ricostruzione del nuovo cimitero che vedrà quale soggetto attuatore lo stesso comune di Ussita. La strada comunale che da San Severino porta alla frazione di Parolito è stata chiusa stamane per la caduta di una grossa quercia provocata da uno smottamento. Tronchi e rami hanno invaso l'intera carreggiata all'altezza del ponte San Bartolomeo. A causare il tutto con ogni prova verità le abbondanti piogge dei giorni scorsi, la situazione comunque si è risolta nel giro di poco più di un'ora. E sono 12 le aziende delle marche che prenderanno parte da domenica al Vinitaly che torna con un'edizione speciale. Vediamo il servizio di Manolita Scocco. Torna il Vinitaly in un'edizione speciale da domenica 17 a martedì 19 ottobre a Verona Fieri e le marche ci saranno con una collettiva di 12 top aziende e una degustazione in programma proprio nella giornata di apertura. Ci saranno le etichette più importanti e rappresentative della nostra regione per un'occasione di straordinaria importanza che segna la ripartenza a tutti gli effetti del mercato nazionale e internazionale del vino. Sicuramente per noi è un grande evento perché ricominciamo a fare quello che facevamo un tempo. Saremo in 12 aziende che hanno voluto partecipare a questa edizione seppur ristretta, seppur particolare però vogliamo esserci per dare un segnale per il mese di rinascita, per dare un segnale che stare insieme, confrontarsi, stringersi la mano è sicuramente una cosa molto positiva rispetto alle tante degustazioni che abbiamo fatto online. Su questo passaggio devo dire che abbiamo anche organizzato una bellissima degustazione con tutte le 12 aziende alla presenza di buyer e distributori praticamente internazionali e devo dare atto e ringraziare l'assessore Mirko Carloni che ci ha dato questa possibilità e lui sarà anche con noi per poter portare la voce delle marche in Europa e nel mondo. Oltre 3 milioni di euro per la promozione e gli investimenti in cantina messi a disposizione dall'assessorato all'agricoltura della Regione Marche attraverso l'approvazione dei bandi per la promozione OCM vino nei paesi terzi 1,8 milioni di euro e PNS, Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vino relativo agli investimenti in cantina 2 milioni di euro un piano per la ripartenza affidato all'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, IMT e al Consorzio Vini Piceni Il piano di promozione è quello che non si è mai fermato è quello verso i paesi terzi dove noi siamo andati sempre avanti nonostante questi vari blocchi e queste chiusure e aperture a macchie di lopardo nel mondo La Regione ha rifatto un bando grazie ai fondi comunitari e ministeriali abbiamo deciso che questo bando deve durare 8 mesi perciò parte a marzo e finisce a dicembre noi apriremo tutte le varie finestre per vedere questo mondo nuovo che ci aspetta e che ci aspetterà nel 2022 L'obiettivo, dice ancora Mazzoni, è sfruttare al meglio i finanziamenti per rilanciare e per valorizzare il nostro territorio e le nostre produzioni vinicole Si parla di una legge sull'enoturismo Beh, questa è stata una grande novità portata da questa giunta l'assessore Garloni si è fortemente spinto per questa legge noi l'abbiamo sostenuta a tutti i livelli lo si sta sistemando in questi giorni presto deve andare praticamente al Consiglio regionale è un'opportunità per tutto il mondo agricolo è un'opportunità per tutto il mondo dell'accoglienza delle marche è un'opportunità per tutte le attività turistiche e nonne dall'artigianato praticamente alla calzatura dal discorso legato anche all'accoglienza che sicuramente aiuterà a far crescere queste visite di non turisti che si spostano Siamo ora al consueto aggiornamento sulla pandemia purtroppo dobbiamo registrare un nuovo decesso si tratta di un 81enne di Chiaravalle con patologie pregresse 99 i nuovi casi di covid di cui 38 in provincia di Ancona 32 nel pesarese, 19 a macerata, 4 a fermo mentre nessun nuovo positivo ad Ascoli Piceno il tasso di incidenza sa leggermente ed è ora quota 28,04 54 i ricoverati complessivi di cui 13 in terapia intensiva e 15 nelle aree semi-intensive E' stato sottoscritto questa mattina presso la prefettura di Macerato un protocollo d'intesa con la Camera di Commercio Marche per implementare le azioni di contrasto e rischi di infiltrazioni criminali ed irregolarità nel sistema delle imprese L'ente camerale mette a disposizione della prefettura la piattaforma REX a beneficio della corretta operatività e sicurezza delle imprese Si tratta di un sistema innovativo di indagine intelligence che permette in sinergia con le forze dell'ordine collegate il monitoraggio del territorio sfruttando i database del registro delle imprese Una nuova struttura sportiva sorgerà nella zona della torraccia Pesaro per il ciclismo ed il patinaggio a rotelle Vediamo Nella Sala Rosso del Comune di Pesaro è stato presentato un importante progetto sportivo un progetto sportivo mirato al ciclismo ma anche al rotellismo, al patinaggio a rotelle Pesaro vuole dotarsi di un impianto all'avanguardia di un impianto che possa ospitare gare a livello nazionale un impianto anche innovativo con specifiche tecniche particolari Il costo è diviso a metà, metà dai fondi del PNRR del Ministero e anche accantonati nel bilancio per il 2021 700 milioni il Comune di Pesaro e 800 milioni il importo che sarà destinato dal Ministero a questo impianto Un punto d'arrivo importante, un progetto travagliato Sono tanti anni che il movimento ciclistico pesarese aspetta un impianto in sicurezza per far allenare il settore giovanile tutti gli amanti del ciclismo e delle anche rotelle fuori dalle strade, fuori dal pericolo Quest'oggi sono stati presenti in videoconferenza il sindaco Matteo Ricci, c'era l'assessore della Dora il presidente della Federazione Ciclistica Nazionale e anche Valentina Bezzali come sottosegretario con delega allo sport La pista ciclorotellistica quindi sarà un impianto importante perché si parla di oltre due chilometri dedicati al ciclismo è un circuito interno di 600 metri per la parte diciamo rotellistica ma anche ciclistica è un impianto sportivo omologato dalla Federazione Ciclismo tant'è che la Federazione Nazionale ha sostenuto questo progetto con lo stesso governo quindi erano presenti qua insieme a me anche la sottosegretaria Valentina Bezzali e il presidente Cordiano Dagnoni, il presidente nazionale e nonché il sindaco Matteo Ricci quindi come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter dare una risposta a quello che è un movimento sportivo importante il movimento ciclistico abbiamo tanti ciclisti che sono in strada e quindi volevamo dare un impianto che permettesse anche di allenarsi in sicurezza ma anche un impianto che desse una risposta all'attività di base abbiamo tanti ragazzi appassionati tanti giovani ciclisti che vanno ad allenarsi altrove ecco vogliamo dare una risposta a loro vogliamo che il movimento ciclistico possa ripartire nella nostra città quindi dando un impianto che è veramente un impianto un'eccellenza a livello nazionale è un impianto che permetterà l'uso come ha detto anche l'assessore anche a livello agonistico potrà essere omologato avrà una pavimentazione in asfalto uno strato di base in binder successivamente un tappeto sempre in binder con delle fasce di sicurezza laterali e lungo tutto il percorso sono realizzate anche delle piazzole che potranno ospitare delle tribune degli spazi per giudici e commissari di gara e siamo ora all'ampia pagina sportiva visto che siamo alla vigilia di un fine settimana che più intenso non si potrebbe già domani in campo tutto il girone B di Serie C per la disputa della nona giornata che sarà aperta alle 14 dal match casalingo della Vispesaro che riceve il Cesen attualmente secondo in classifica e con 4 vittorie nelle ultime 5 gare due squadre in salute con i romagnoli dalla difesa di ferro appena 3 gol subiti alle 17.30 invece l'Ancona Matelica torna al Del Connero per ospitare il giovanissimo ma temibile Montevarchi con Colavitto che ritrova del sole ma deve fare i conti con gli acciacchi di Sereni le due squadre si erano già affrontate in Coppa Italia con i Dorici che hanno avuto la meglio dopo i rigori alla stessa ora proibitiva trasferta per la fermana a Pescara tutto con giura contro i canarini compresa la forza degli abruzzesi ma si confida in una prova di orgoglio e grande attesa da Ascoli dove arriva il Lecce dopo i cappò interni con Brescia e Benevento un test importante per comprendere le reali potenzialità dei bianconeri ci presenta l'incontro Mario Larocca Torna il campionato di Serie B e lo fa al Del Duca con un gran match Ascoli contro Lecce in campo domani per l'ottava giornata di campionato con inizio alle ore 14 nell'Ascoli la novità è la convocazione di Sabiri che torna in rosa come il recupero del greco Avlonidis al centro della difesa per quanto riguarda la squadra di Marco Baroni il Lecce Out Gallo e l'islandese Bjarnason che non saranno del match un Lecce in gran momento quattro le vittorie consecutive per la squadra giallorossa che precede di un punto quella bianconera assolutamente da tenere d'occhio il trio davanti con Strefezza Coda e Di Mariano un Di Mariano assolutamente ispirato in questa parte della stagione Un Ascoli come dicevo che recupera Sabiri un'arma in più, un'arma importante per Sottito una settimana molto delicata la settimana che ha visto le dimissioni del direttore sportivo Lupo le polemiche a distanza ma non troppo col patron Massimo Pulcinelli che questa sera presenterà tutto lo staff dirigenziale compreso anche l'italo-americano Matt Rizzetta al Teatro Vendidio Basso ma all'occhio dei tifosi che saranno presenti domani allo stadio augurandosi anche il ritorno degli Ultras 1898 negli spalti e per domani per il match dell'ottavo turno di campionato appunto Ascoli contro Lecce un Ascoli che verosimilmente assumerà lo stesso atteggiamento delle precedenti gare con l'innesto di Sabiri probabilmente in corso d'opera non credo dal primo minuto e con la conferma forse di Felicioli a sinistra e quella di Maisto che si sta contendendo la maglia come trequartista a Davide a Diego Fabbrini è sicuramente un match che può dir tanto soprattutto per i bianconeri che nelle precedenti due gare contro squadre forti Aldelduca le entrambe perse e mi riferisco a Benevento e Brescia domani è sicuramente un terzo confronto contro una formazione che ambisce a una serie A diretta e da lì veramente uscirà un Ascoli con quello che le proprie potenzialità potenzialità che ci auguriamo che possono essere quelle di giocarsi un posto playoff da qui alla fine della stagione Ma noi siamo consapevoli che qui arriva una corrazzata di questo di questo campionato una squadra forte una squadra formata da ottimi calciatori ma come sempre dico ma soprattutto per questa partita un grandissimo rispetto per il Lecce per quello che sta facendo però noi siamo altrettanto pronti ci siamo allenati forte con grande determinazione con grande rabbia anche che secondo me si poteva raccogliere più punti ecco perché domani soprattutto come dicevo tornando in casa nostra davanti ai nostri tifosi che sperano che siano ancora di più e che si possa riempire ancora di più il nostro del Duca il nostro stadio la nostra casa dobbiamo fare battaglia fare una partita di grande di grande determinazione di grande applicazione di grande concentrazione in seguito intensità perché anche noi abbiamo le nostre armi le dobbiamo mettere in campo e cercare di mettere in difficoltà sempre il Lecce in Serie D il match clou è quello del Tubaldi dove si affrontano Re Canatese e Pineto due delle sette squadre che condividono la vetta della classifica e tra l'altro entrambe reducite a tre vittorie consecutive tra le mura mica anche il Fano che ospita il Matese ed il sorprendente Porto D'Ascoli per una sorta di esame di maturità con il Notaresco trasferta molto difficile per il Tolentino sul campo dell'ambizioso Fiuggi mentre il Montegiorgio sarà Roma contro il Trastevere ed il Castelfidardo a Basto in eccellenza la leader Marina è di scena a Porto Sant'Elpidio mentre partita di cartella Senigallia tra Vigor ed Azzurra Colli da seguire anche il derby tra Val di Chienti Ponte e Montefano nella sfida tra le ambiziose Atletico Ascoli e San Giustese cambiamo argomento sabato il Nuoto Loreto festeggia i suoi primi 40 anni di attività una società tra le più prestigiose in molte discipline acquatiche sentiamo La società Nuoto Loreto festeggia i suoi primi 40 anni di vita in realtà è una celebrazione che è stata posticipata a causa del Covid ma che si terrà domani alla presenza di atleti familiari sponsor ed autorità locali Enrico Angeloni ne è il presidente quali saranno Enrico i momenti principali di questa ricorrenza la nostra attività agonistica è stata costituita dal Nuoto Loreto nel 1980 e dal 1980 siamo partiti si può dire da zero ed è lì abbiamo cominciato a costruire l'attività agonistica il presidente allora era Ido Baldoni che ha prelevato un bravissimo allenatore da Roma l'ha portato qui a Loreto e a quel punto è iniziata la vera scalata del Nuoto Loreto i primi dieci anni che noi abbiamo celebrato come attività agonistica abbiamo vinto diversi titoli regionali portato diversi atleti ai campionati italiani abbiamo fatto sei o sette mitiche a livello nazionale e internazionale sempre lì alla piscina di Baldoni e portando anche atleti a livello nazionale come Stefano Battistelli che allora è arrivato terzo alle Olimpiadi poi siamo passati al 1990 in poi l'anno più bello è stato a Roma quando ai campionati italiani a categoria ragazzi abbiamo vinto sette titoli italiani vincendo questi sette titoli italiani la società ha avuto un momento di risultati ancora migliori in quanto siamo diventati la prima società femminile nelle marche e secondi con i maschi poi siamo cominciati abbiamo iniziato ancora ad andare avanti fino ad arrivare al famoso 2000 in poi in quel periodo la serie B la serie la pallanuoto costruita anche lei negli anni 90 ha portato la serie B maschile a livello nazionale la stessa cosa con le atlete della nuoto Loreto che hanno praticato pallanuoto a Osimo siamo andati in serie A2 nel 2008 direi questo è l'evento più importante della storia del nuoto Loreto abbiamo fatto la traversata del mare Adriatico dalla Croazia a Porto Recaratti un risultato incredibile perché ragazzi giovanissimi sono stati talmente bravi a nuotare anche di notte il quale loro hanno portato un'immagine di gioventù e per la grandezza anche dello sport che è il nuoto per 20 anni abbiamo fatto la gara di nuoto in mare di 2500 metri 5000 metri a Porto Recanati a livello nazionale anche qui siamo riusciti ad avere e a sentire tutti gli atleti che partecipavano di essere una della società più attrezzate più ben organizzate del centro Italia una storia lo hai detto iniziata nel 1980 una storia fatta di imprese iniziative risultati ma soprattutto di impegno amicizia e coinvolgimento che verrà celebrata appunto domani sì e questo deve essere una serata ancora più importante di quella di sabato noi se il covid non ci impediva di non fare la festa all'aperto saremo stati più di 300 persone avremmo chiamato tutti ex atleti tutti ex consiglieri della società di questi anni e partecipando maggior parte anche dei genitori i quali ci tenevano moltissimo all'organizzazione e i consiglieri che hanno dato tantissimo a questa società la facciamo domani ai cappuccini a Recanati e ci sarà la presentazione dell'evento alle ore 18 e poi alle 21 ci sarà la famosa cena con la torta che qua le festeggeremo con una bottiglia di spumante nel basket domenica alle 16.30 torna tra le muramiche la carpegna prosciutto pesero che dopo la brutta prestazione di Bologna cerca il riscatto contro la temibile matricola Tortona piena zeppa di marchigiani ma i biancorossi hanno avuto una settimana per smaltire l'ultimo capo ed inserire il nuovo play Larsson in A2 Fabriano ancora quota 0 in classifica riceve ad Osimo il Sansevero con pagine che ha gli stessi obiettivi dei cartai il GM dell'Aristo Pro Michele Paoletti sarà l'ospite di Big Basket domani alle 13 sul Canale 11 giornata di derby in Serie B con Senigallia Aurora Iesi e Sutor Montegranaro Luciana Mosconi Ancona e vediamo ora le previsioni meteo per sabato 16 ottobre ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo un campo di alta pressione sarà sempre protagonista del tempo sull'Europa centrale durante la giornata di sabato massimi tra Germania e Francia abbracciare anche parte del centro nord Italia mentre allo sud infiltrazioni di aria umida in quota da ovest a nord ovest con qualche piovasco sabato sulla Sardegna ma poi nel corso di domenica ancora basso Tirreno e Sicilia in primis ecco le previsioni per la giornata di sabato con bel tempo su un po' tutte le nostre regioni non solo il centro nord migliora anche sulla Puglia dopo le recenti piogge mentre della variabilità di nuovo farà la sua comparsa sulla Sardegna con brevi piovaschi e qualche occasionale acquazzone peggioramento parziale che nel corso poi di domenica investirà dicevamo anche parte di Calabria e Sicilia tutti i dettagli tutti i dettagli precisi li trovate però scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo nel volley di Superlega esordio casalingo della Lube domenica alle 15.30 con Piacenza molta attesa ad Urbino per la prima casalinga della Megabox Vallefoglia nel massimo campionato femminile nel pala Carneroli arriva il Bustarzizio squadra tra le più insidiose che ha giunto la Bosetti ad un organico già molto competitivo domenica alle 17 ci vorrà insomma una super prestazione alle 18 in diretta sul canale 11 di TVRS la Mestor Macerata se la vedrà contro Belluno completano il quadro delle marchigiane Sandona Videx Grottazzolina e Garlasco Vigilalfano con questo è davvero tutto grazie per la cortesa attenzione e buon weekend